Era solo questione di tempo, l'avevamo detto, ma non per la legge dei grandi numeri, per le prestazioni che Piacenza ultimamente ha dimostrato in campo, dimostrando di essere addirittura all'altezza di squadra il ben più forte di questo Mantua. La vittoria comunque fuori casa è stata cercata, voluta e meritate, anche con quel pizzico di fortuna che la squadra di Scazzola ultimamente si era abbondantemente meritato. Piacenza che parte con una difesa a quattro, a sorpresa, con Masetti terzino destro, 4-4-2, che sorprende nei primi minuti la formazione di casa. Ma poi la squadra virgiliana capisce l'antifona, mette in difficoltà Piacenza che dopo un po' sulla sua fascia di sinistra non trova equilibri e quindi Scazzola ritorna a un 3-5-2. Il primo tempo finisce 0-0 con un'occasione per parte. Nella ripresa Piacenza mette quasi sempre il Mantua nella propria metà campo, creando come sempre meno di quello che dovrebbe fare. Ma di colpo arriva il gol, il cross dalla sinistra, si libera Gonzi che tira un missile terraria sotto la traversa. Manca poco alla fine della partita, ma in Piacenza in due minuti non riesce a leggere un triangolo abbastanza leggibile. Libera De Franceschinare che con un diagonale trova il pari. A quel punto ti aspetti che in Piacenza possa andare in difficoltà, invece reagisce, prova ad attaccare, si sbilancia anche, crea con Capoferri. C'è un'occasione anche per il Mantua, ma poi è fortunato perché su un bel cross di Gonzi c'è la deviazione di Guccione nella propria porta. La partita finisce qua, il Piacenza per la prima volta non è ultimo, alle spalle la via Ottus-Verona ed è ottimista per il futuro. Un occhio a tutti, prestazione perfetta ma sontuosa quella di Sulic, decisamente il padrone di centrocampo. E molto bene anche Cosenza che non ha sbagliato un intervento.